Ciao! Questo è un video a faccia del giorno, vi volevo far vedere questo trucco così parliamo un po' di quello che ho utilizzato. Questi sono gli occhi, questo è il viso e queste sono le labbra. Parto dalla base, come sempre. Come base ho utilizzato la BB cream, questa qui di Olica Olica Ulica Ulica, questa qui, che io ho preso da BB cream Italia, questa è l'Aqua Petite, ha un SPF 25 e suppongo sia coreana, penso. Comunque è una BB cream adatta per pelli normali, la sto utilizzando più o meno da due settimane all'incirca, devo dire che mi ci sto trovando bene, perché è leggera, io ne stendo veramente una puntina, ne metto una puntina qui, una qui, una qui e una qui e poi stendo con il pennello. Mi ci trovo bene perché è leggera sul viso, non la sento comunque durante la giornata, ma quando arriva a sera mi vado a struccare. La cosa che mi piace di più è che comunque mi va ad uniformare bene il viso, nel senso che il colorito del viso si vede, lo vedo ben uniformato, soprattutto qui dove ho delle macchie dovute al sole, principalmente sì, qui proprio al centro della fronte. E lo vedo proprio uniformato bene, non mi dispiace per niente, comunque è una crema abbastanza leggera e la colorazione è questa qui, eccola qui, però una volta stesa si uniforma perfettamente con il colorito della pelle, si stende anche velocemente, quindi anche per questo mi piace tanto e costa sugli 8,90 euro, credo. Poi come correttore, sì l'ho preso, pensavo di non averlo preso, ho utilizzato l'Istant Anti-Age, questo qui della Maybelline, mi piace, è la credo terza confezione che utilizzo, questo correttore a me piace molto, quindi è inutile che ve ne parli, insomma. Poi come cipri ho utilizzato su tutto il viso la Primed & Poreless di Too Faced, che è sempre questa qui, che non mi fa impazzire sopra questo tipo di BB Cream, perché come vedete da qui, sembra, nel senso, si vede che io ho qualcosa sul viso, e questa cosa non mi fa impazzire, perché con altre, per esempio con la cipria di Kiko, se la vado a mettere al di sopra di quella BB Cream, non ottengo questo risultato. Mi piace molto come cipria, probabilmente non mi piace utilizzata sopra questo tipo di prodotto, per il resto, utilizzata sopra d'altri, mi piace veramente tanto, e comunque mi tiene per tutto il giorno, quindi va benissimo. Ecco, a me non mi fa impazzire questo effetto che vedo qui, che si vede comunque che ho qualcosa sul viso, non mi piace molto la cosa. Poi, per quanto riguarda le occhiaie, ho fissato sempre dalla palette Magic Powder di Paola P, sulle occhiaie ho utilizzato la cipria, questa qui giallina, il colore questo qui giallino, che dovrebbe essere Hocus Pocus, poi ho fatto un po' di contouring, qui sembra diverso, ma perché ho la luce che arriva in maniera diversa, con questi due colori miscelati insieme, che sono BB 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 e APRITI SESAMO, che sono questi due qui. A me questa palette mi sta continuando a piacere molto, perché non sono, sì, sono pigmentati, ma non esageratamente, quindi riesco comunque a gestirli abbastanza bene, senza fare dei disastri, e mi piace anche perché le polveri comunque sono veramente setose e mi reggono per tutta la giornata, quindi anche questo è un punto a suo favore, sicuramente. Come blush ho utilizzato questo di Sephora, che è il numero 21 Dazzling Pink, ed è questo colore qui, ed è quello che mi vedete su. Eccolo qui. Questi blush di Sephora, io credo che ne ho un altro, l'avevo provato questo in un campioncino che mi avevano mandato, tra quelli che si potevano richiedere, e non mi dispiacciono questi blush di Sephora, questa è l'unica colorazione che ho provato, però mi dura tranquillamente tutto, tutto il giorno. La polvere è setosa, non sono iperpigmentati, però si sfumano comunque molto, molto bene. Passando agli occhi, come primer sempre il Primer Potion, questo qui, l'original, io odio questo tipo di applicatore, perché veramente non riesco a far uscire il prodotto dalla confezione, me ne esce davvero poco, che devo prelevarlo diverse volte, probabilmente va a finire che andrò a riversare tutto il prodotto in un pottino, e lo utilizzerò da lì, perché a me non piace proprio l'applicatore fatto così. Poi sugli occhi ho utilizzato la Salted Caramel della I Heart Makeup, che dovrebbe essere il dupe della Semi Sweet. Ora levo il pennellino, c'è il fogliettino con i nomi, e questa è la palette. È una palette diversa per me, perché io preferisco utilizzare su di me dei colori abbastanza freddi. Non lo so perché, ma mi vendo molto meglio. Gusti. E invece, questa mi aveva incuriosito, principalmente mi aveva incuriosito la Semi Sweet, però non mi andava di spendere tutti quei soldi, perché sono sincera, non so se poi l'avrei utilizzata. E mi sto cimentando, diciamo, ad utilizzare questa qui. Devo dire che non mi dispiacciono anche i colori caldi su di me. Sento che lo specchio si sta per staccare, e questa cosa non mi piace. Allora, cosa ho utilizzato? Ho utilizzato su tutta la palpebra mobile questo colore qui, questo, che è questo qui. Poi, nella piega ho fatto, e nell'angolo esterno, ho fatto un mix tra questo e questo qui, che sono questo e questo. Questi due colori qui. Poi, sotto l'arcata sopraccigliare, ho utilizzato questo qui. E ho finito le dita. va bene, intanto vi faccio vedere questi. E sono questi colori qui. Come vedete, sono molto, molto scriventi, anche se sono leggermente polverosi. Nell'angolo interno dell'occhio, ho utilizzato questo qui, che è questo colore qui. e ora, senza far calcare niente, ci proviamo, ed è questo colore qui. È una palette abbastanza polverosa, per esempio, come si vede da questo colore matt, è abbastanza polverosa. la più polverosa tra quelle che ho provato della Makeup Revolution, Eye Art Makeup, la più polverosa. Però i colori, questo è quello che mi rimane sul dito, questo è lo swatch, comunque sono molto, molto scriventi. Non mi dispiace, perché comunque li riesca a sfumare abbastanza bene, non fanno l'effetto palpebra pieghettata, insomma, e anche questa cosa mi piace. Poi, come riga di eyeliner ho utilizzato questa matita di neve che è la Terra Brown, questa qui, che è questo colore qui, e penso, mi piace come sta al di sopra di questo colorino oro, insomma. Poi, l'ho messa anche sotto le ciglia inferiori, all'interno dell'occhio ho messo la gel Eye Pencil Waterproof, questa qui marrone di Essence che vi faccio vedere dappertutto, credo, che è questa qui. Sotto le ciglia inferiori dicevo, ho messo questa qui sempre di neve, però al di sopra sono andata con questo colore qui, che, cambio mano perché le altre dita ancora sono sporche, che è questo colore qui. eccolo qui, e mi piace il risultato che ne viene fuori perché lo trovo comunque molto molto luminoso e questa cosa mi piace un sacco. Non pensavo, cioè, sono sincera, non pensavo che mi sarebbe piaciuta questa palette perché, come ho detto prima, io non utilizzo molto colori caldi su di me, non lo so, mi vedo molto meglio con i colori freddi, però questo tipo di trucco l'ho fatto per diversi giorni in questa settimana e comunque mi piace, mi piace molto. Non è niente di che, però mi piace molto a me. Come matita per sopracciglia ho utilizzato questa di Catrice, la numero dove sei? La numero 030 Brown and I'd Peace. Come mascara è un po' di tempo che lo sto utilizzando, ma non ve ne avevo mai parlato, ho utilizzato il The Falsest Push Up Drama Mascara, questo qui della Maybelline. Questa mascara a me non piace per niente perché non so se vedete ma mi incolla praticamente tutte, tutte le sciglia. Non mi piace proprio il risultato che mi dà. Ah, lo scovolino ho fatto così, più o meno sarà un forse un mesetto che lo utilizzo e non mi piace, non mi piace il risultato che mi dà perché lo devo lavorare molto, devo pulire molto molto bene lo scovolino e tende proprio, ma anche qui si vede ad incollarmi comunque molto le ciglia, questa cosa a me non mi fa impazzire, preferisco magari non averle incurvate però averle belle pettinate e avere un aspetto decente perché qui vedete e poi è uno di quei mascara che indurisce veramente tanto le ciglia sono comunque molto molto cioè si sente sono secche praticamente e non mi piace ho sentito pareri molto discordanti su questo mascara per me è no non mi piace proprio il risultato l'ultimo prodotto è il rossetto a molte potrà non piacere questo abbinamento tra il trucco occhi e il rossetto ma a me piace quindi poi ci devo andare in giro io quindi basta che piace a me sono fatta così e il rossetto è uno dei regali che mi ha fatto Francesca quando ci siamo viste al Cosmo Prof Sissi & French ed è il Floral Crown della Zoeva dei Lux Cream Lipstick il colore è questo qui ed è un rossetto bellissimo è un rossetto molto 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 cremoso che si stende veramente molto bene non ha profumo e anche questa cosa mi piace perché in questi giorni ne ho utilizzate uno di Milani che per carità mi piace tantissimo la durata ma appena apro la confezione sento questo odore che è buono però è troppo diciamo e si stende molto molto bene sulle mie labbra ha veramente una buonissima durata mi arriva al pasto preciso nonostante io durante la mattinata bevo acqua prendo caffè assolutamente dopo il pasto non resiste perfetto però comunque le labbra mi restano con quel velo di colore poi da quando mi trucco per arrivare al pranzo passano 5 ore più o meno e comunque la resa devo dire che è veramente ottima è un bel colore come vedete e mi sta piacendo tanto poi vabbè la chiusura calamitata e ogni volta che lo utilizzo mi diverto da morire con questa cosa va bene e questo era tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao